Mi fa molto piacere rispondere all'invito di Paola Monfredi e del suo gruppo di lavoro, che mi sollecitano a riflettere sull'effettiva durata di una mostra, su cosa rimane di una mostra anche dopo la sua fine, al suo termine. Senz'altro, abbastanza scontato dirlo, tutto quel corpo di pubblicazioni, cataloghi, la documentazione, diciamo, di una mostra, che poi in qualche modo contribuisce a creare quella che è un po' la letteratura attorno alla storia delle esposizioni e alla storia delle mostre. Credo che ognuno di noi, almeno chi ha studiato storia dell'arte, sia formato, credo che si sia formato almeno, su dei libri che riproducono anche attraverso immagini in bianco e nero, quasi delle immagini un po' mitologiche per certi versi, che ci restituiscono anche attraverso un fermo immagine la temperatura o l'attitudine di una mostra o di un certo artista. E poi ovviamente c'è anche il lato più personale, se vogliamo, anche feticistico, legato per esempio ai biglietti, ai opuscoli, ai deplian, a tutto quel materiale che spesso ci riportiamo dalle mostre e che collezioniamo in maniera a volte così anche compulsiva per poi magari ritrovarlo in dei cassetti accumulato dopo tanti anni. E poi ovviamente c'è anche proprio il ricordo, il vero e proprio ricordo personale, l'esperienza proprio all'interno dello spazio espositivo, che insomma lo vediamo anche oggi, insomma in questo periodo in cui siamo costretti a, come dire, a rimanere a casa, l'esperienza proprio diretta della visita e l'esperienza diretta dello spazio espositivo è qualcosa di insostituibile ed è forse quello il ricordo più forte di una mostra che poi ci portiamo dentro, che ci appartiene. Io per esempio ricordo ancora diversi anni fa, quasi una decina d'anni fa, quando andai a Parma per vedere una mostra personale dedicata a Claudio Parmigiani ed entrai in questo spazio, in una chiesa credo sconsacrata, dove era conservata quest'opera che è Naufragio con Spettatore, se non sbaglio il titolo, in cui c'era questa nave, questa vecchia imbarcazione che galleggiava, quasi incastonata nella parte absidale di questa chiesa, su un mare di libri, ecco, e quella lì per me fu un'esperienza, un incontro davvero incredibile e che anche oggi resiste nella mia memoria.